ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video oggi organizziamo insieme con temo vi faccio vedere gli utilizzi e di come sono andata a disporre io questi nuovi oggettini compreso dal sito di temo qua sotto vi lascio in ogni per ogni prodotto che andiamo a scartare insieme vi lascio il prezzo temo a dei prezzi imbattibili mi ci trovo benissimo anche la scorsa volta ho già collaborato con loro quindi ho i prodotti da più di un mese all'incirca un due mesetti e non si è rovinato nulla soprattutto magari mestoli che sono belli delicati e ragazzi li sto lavando anche il lavatrice il lavastoviglie sono ancora perfetti quindi io veramente vi straconsiglio questo sito temo per questo ordine sono super contentissima perché finalmente mi sono arrivati copri sedia nuovi copri divano e copri poltrona i pezzi che desideravo che ho voluto che ho scelto sono veramente fantastici poi dopo andiamo ad organizzare insieme e vi faccio vedere l'effetto finale com'è qua sotto a sinistra trovate il codice sconto che vi servirà per ottenere uno sconto extra del 30 per cento comunque ragazzi ho preso veramente tantissime cose sfiziose partendo da questo pomello che poi vabbè alla macchina di mio marito non andava bene quindi l'ho dato a mio suocero il pomello per il cambio poi ho preso questo spruzzino dove all'interno ho messo l'alcol dove vado a disinfettarmi sempre le mani sia quando vado a fare la spesa oppure quando devo entrare in macchina quando scende insomma veramente favoloso potete metterci anche magari del profumo all'interno poi ho preso questi ganci che vanno attaccati in doccia e si appoggia sopra la lametta o se volete anche le spugnette poi ho preso i calzini che non so a casa vostra ma a casa mia li bucano in continuazione quindi ho preso questo set calzini sia bianchi sia neri e poi ho preso anche degli stampi in silicone sia per fare i simil magnum i gelati e sia per andare a fare delle mini tortine oppure dei pancakes però in friggitrice ad aria è proprio uno stampo che va diciamo come dimensione va benissimo all'interno della friggitrice e la mia è da 5 litri poi ho preso questa scatola in vellutino con vari scomparti per andare a metterci all'interno gioiellini vari la sveglia super bellissima per i bambini e vari contenitori sempre per andare a sistemare sia il trucco e sia prodottini da bagno ora tra poco comunque vi faccio vedere e andremo a sistemare il tutto assieme allora mentre io scarto la sveglia dei bambini troppo carina poi accesa vi ricordo che su temo con il mio codice sconto avrete uno sconto extra del 30 per cento e in più su temo trovate dei prezzi convenienti spedizione gratuita reso fino a 90 giorni e ci sono veramente tanti metodi di pagamento anche diciamo rateizzati con tipo con clarna e after pay se non erro quindi veramente un sito super affidabile jacopo sotto che batte le manine anche lui apprezza questa opzione di temo finito di spacchettare tutto ora cominciamo ad organizzare pulire e sistemare insieme come prima cosa vado a lavare copritivano coprisedia e copri poltrona vado a fare un lavaggio breve inserisco anche le perline della lenore così quando poi le andiamo a posizionare su insomma i vari complementi e spregionano tutto il loro fantastico profumo iscriviti al nostro canale ed ora nel frattempo che i panni si asciugano vado a pulire la cucina la puliamo un pochino insieme vado a fare appunto delle pulizie queste qua erano pulizie post pranzo e poi dopo andiamo a sistemare il tutto raga non vedo l'ora dopo vi faccio vedere giustamente anche il risultato finale io comunque nel frattempo voglio consigliarvi assolutamente di scaricare l'app va bene sia per app store sia per play store perché vi faccio vedere vedete qui a destra vi metto un pochino il sito ci sono veramente tantissimi prodotti tantissime cosine stupende soprattutto anche per ora che sta arrivato sta arrivando l'autunno poi ci sarà il natale e veramente raga delle cose fantastiche ma anche per organizzare dei cassetti a contenitore che vanno nei nei vari mobili no veramente fateci un giretto sull'app e vedrete che non ve ne pentirete il mio codice sconto e dk e 45 26 per avere lo sconto extra del 30 per cento ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi ripeto, io ad oggi ho ancora tutto perfettamente intatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi restano belli fermi ed è la cosa che più mi premeva perché con tre bambini, ma capita anche a noi grandi, ogni volta che uno si alza, niente, il suo coprisedia si toglieva e invece perfettamente nella loro posizione. Certo, almeno che uno non si metta a fare mille movimenti sulla sedia, allora là è un po' diverso. Ho passato l'aspirapolvere, lavaggio a terra ed ora vi faccio vedere come è venuto l'effetto finale. Grazie. Grazie a tutti. Ed ecco qua il mio divano, la mia poltrona e il mio tavolo. Adesso belli protetti in pandan, diciamo così e via, raga mi piace tantissimo. Vi ripeto, qua sotto vi lascio tutti i vari link e i vari nomi dei prodotti che ho acquistato io. Ed ora invece andiamo ad organizzare con gli altri organizer, anche quello la girevole, tutti quanti troppo bellini, i miei trucchi e le mie varie cremine. Insomma ora andiamo ad organizzare e sistemare insieme. Allora, in questo qui girevole ho voluto metterci all'interno, allora al centro tutti i pennelli e poi intorno i vari correttori, fondotinta, primer, queste cosine qua. Ed è veramente molto carino perché poi sto fatto che gira, possiamo girarlo e scegliere il prodotto che ci serve. In questo vassoietto in vellutino con sei scomparti ho messo tutti i vari gioiellini ed ora vado ad organizzare invece il contenitore che avevo già. Ma se li cercate così in plastica comunque su Temo ci sono, ci sono veramente tantissimi organizer anche per detersivi, per abbigliamento. Quindi veramente date un'occhiata, io vi dico che ad oggi ho altri 36 prodotti all'incirca all'interno del carrello. Ed ora organizziamo quest'altro organizer. Questo qua ha il coperchio sopra di plastica, quindi se mettete tutte cose basse potete anche chiuderlo. Io siccome ho messo anche delle cremine lo lascio aperto e lo trovo veramente perfetto e carino per il bagno. L'ho preso bello con questi piedini color oro rosa e mi piace veramente tantissimo. E l'ho messo sulla menzolina che ho sopra la vasca. Terminato a me questo angolino mi fa impazzire ed ora andiamo a lavare le scarpe dei bambini. Siccome io le lavo all'interno della lavatrice ho preso su Temo queste due sacche da mettere appunto le scarpe all'interno. Quindi cosa faccio? Le vado prima a spruzzare con tantissimo sgrassatore, apro le cerniere, metto le scarpe all'interno di queste sacche e le butto in lavatrice. E state tranquilli che le vostre scarpe non vanno a rovinarsi. Scarpe avviate ed ora vi mostro questi dolcetti che ho fatto velocemente. Allora l'impasto era l'impasto diciamo dei pancake più o meno. Non ho la ricetta perché l'ho fatta proprio ad occhio. Quindi ho messo l'impasto sotto, poi ho messo cioccolata al centro e altro impasto sopra. Ho buttato all'interno della frigitrice ad aria ed ecco qua i dolcetti che sono usciti. Per terminare ho fatto dei dolcini. Mi raccomando comprate anche i bastoncini di legno quando prendete la forma per fare il gelatino. E ho fatto questi gelati sani sia con yogurt al cocco sia con latte di cocco, con granella di nocciola e mandorle, crema al pistacchio. Insomma sono venuti veramente una bomba, buoni buoni. E niente ragazzi io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato qualche spunto per la vostra organizzazione e motivazione. Vi abbraccio, vi lascio tutte le informazioni qua sotto nell'info box. Vi ricordo il codice sconto di KE4526 dove potrete ottenere un extra sconto del 30%. Infine vi ricordo che su Temu potrete trovare dei prezzi convenienti. La spedizione è veloce e soprattutto gratuita. Avete la possibilità di un rimborso entro 90 giorni. Ci sono vari tipi di pagamenti anche con pareclarna ratizzati. Quindi veramente un sito super super affidabile. Io ve lo straconsiglio e magari fatevi un giretto sul sito, tra le tante categorie sicuramente troverete ciò di cui avete bisogno. Io vi aspetto al prossimo video, un bacio fortissimo, vi voglio tanto bene, a presto, ciao!